Ciao a tutti e dopo la breve pausa delle vacanze estive eccomi di nuovo a proporvi una video ricetta. Cecilia tempo fa mi ha chiesto di proporre una ricetta light di biscotti. Mi è venuto in mente di preparare dei biscotti a cereali con dei fiocchi di avena e farina integrale. Andrò ad aggiungere anche delle mandorle tritate, dell'uvetta oppure delle gocce di cioccolato. Andiamo a vedere subito gli ingredienti per la preparazione. Comincio col preparare l'impasto dei biscotti. Non appena avrò ottenuto un composto biancastro vado a mettere lo yogurt bianco. Adesso aggiungo i fiocchi d'avena un po' alla volta mescolando. Fatto ciò aggiungo la farina integrale poco alla volta, sempre mescolando. Appena il composto comincia ad essere più compatto, posso anche utilizzare le mani. Adesso posso lasciare i biscotti così come sono, oppure posso aggiungere o dell'uvetta, o delle bacche di goji, oppure delle mandorle o delle gocce di cioccolato, oppure della frutta secca tipo mirtilli. Quindi potete personalizzare questi biscotti integrali secondo i vostri gusti personali. In metà il composto vado a mettere dell'uvetta. Mi aiuto con un po' di farina integrale se dovesse risultare troppo appiccicoso. Nell'altra metà vado a mettere delle gocce di cioccolato. E lo faccio riposare in frigorifero per circa mezz'ora. Raggiunto lo spessore desiderato vado a prendere una formina circolare, questa è del diametro di 6 cm, ma va benissimo anche un coppapasta oppure anche un semplice bicchierino. Adesso li faccio con il bicchierino. Lo vado ad intingere nella farina integrale e poi formo il biscotto. Andando a metterlo all'interno della farina integrale non si andrà ad attaccare i bordi. Ho sistemato i biscotti ai cereali in una leccarda da forno rivestita di carta forno. Li vado ad infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Ho tolto i biscotti ai cereali dal forno dopo 20 minuti. Li ho fatti tostare un pochino di più perché devono risultare dorati anche in superficie. I biscotti ai cereali sono pronti, si mantengono freschi per giorni, basta tenerli in un contenitore per biscotti ben chiusi. Spero che anche questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Un bacio a tutti e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!